Aveva chiesto su internet la valutazione di un'auto ma in realtà si è trovato in mezzo ad una truffa online. A scoprire il raggiro è stata la polizia di Omegna in Piemonte che ha portato così alla luce una piccola organizzazione che agiva a patti ma si muoveva anche all'estero. Un'organizzazione composta da quattro persone, tre italiani e un giovane polacco, denunciati dalla procura di patti competente sul caso. Per un 54enne e un 48enne entrambi di patti, per un 38enne di Messina e per un polacco di 23 anni l'accusa è di associazione delinquere finalizzata alla commissione di truffe consumate e tentate in ambiente internet. L'indagine è partita dalla segnalazione di un uomo residente in Piemonte che ha raccontato di aver chiesto su un sito specializzato la valutazione della propria auto. Il costo doveva essere solamente quello di un sms che gli è arrivato il giorno successivo con la valutazione della vettura ad un valore di 3.000 euro. Dopo qualche giorno però ha ricevuto a casa anche un attestato sottoscritto dallo staff del sito internet con una fattura di 60 euro come costo indicato per il servizio di valutazione e poi altre due fatture, una da 100 ed una da 300 euro. Da lì è iniziato il lungo lavoro di ricerca da parte del commissariato di Omegna che ha ricostruito un sistema di truffe che funzionava in tutta Italia ed era molto articolato utilizzando sempre lo stesso schema di cui è rimasto vittima anche il cliente verbanese. Il sito risultava gestito da una società con sede legale negli Stati Uniti e l'ufficio di rappresentanza era invece collocato a patti. Le fatture e il flusso di denaro hanno portato ad un ufficio postale pattese ma anche all'estero e ad uno studio legale in Estonia. Dopo aver ricostruito il tutto il percorso sono così scattate le denunce.